E allora è entrata nel vivo la corsa congressuale nel Partito Democratico in vista delle primarie del 30 di aprile, abbiamo alle spalle questa tre giorni del lingotto di Torino per Renzi, Orlando ha riunito i suoi a Roma in un teatro e Michele Emiliano ha inaugurato ieri la sede del partito, diciamo dei suoi comitati proprio a Firenze. Adesso è qui con noi, buon pomeriggio, ciao Massimo, buongiorno, buongiorno Emiliano. Dunque io prima di ogni altra cosa però voglio chiederle conto di una dichiarazione che lei ha rilasciato questa mattina in un'altra trasmissione televisiva a Omnibus sulla 7 perché ha detto c'è un clima dentro il partito che ha spinto alla scissione, io sono magistrato antimafia e resisto alle intimidazioni, sono addestrato dallo Stato per questo, ci sono però decine di persone che stanno con me ma hanno paura di dirlo, che significa? Semplicissimo, c'è un gioco di opinioni, di aree, di incastri locali nei quali il PD si è andato a ficcare che determina un certo timore di sostenere emozioni innovative, molti per esempio sanno bene che bisogna cambiare completamente pagina, le primarie sono un'occasione imperdibile per riposizionare il PD e chiudere definitivamente con la parentesi renziana, molti hanno la sensazione che questo sia necessario per il partito, per il Paese, per tentare di vincere le elezioni e non consegnare il Paese agli opposti populismi, però è chiaro che, poi tengo sempre famiglia in Italia, c'è sempre la paura della carriera politica, carriera politica è una parola grossa perché a me ogni tanto viene da sorridere, però capisco che molti si daranno da fare in questo congresso per darmi una mano ma non lo potranno dire, questa cosa mi dispiace perché il PD dovrebbe essere uno strumento di liberazione, si però quando parla di intimidazioni sembra suggerire qualcosa di più grave, più pesante, ovviamente mi riferivo alle tipiche intimidazioni da organizzazioni politiche, le quali gli dicono che se sostiene Emiliano la tua carriera è finita, Emiliano è uno che contrasta con i principi generali del partito, oggi me l'ha detto dritto per dritto un giornalista proprio nella stessa trasmissione, mi ha detto guardi lei sembra uno estraneo al PD, io gli ho detto guardi sarò pure estraneo all'establishment del PD, ma sono in contatto con tutto il resto dell'Italia, che si sente nel partito, devo dire anche molti giornalisti si sentono in questa stessa condizione, l'idea che quando si è contro il potere costituito si rischi qualche cosa nell'esercizio dei propri diritti costituzionali che sono quelli del diritto di informare, di essere informati, di fare politica, di scegliere le mozioni di liberamento. Ma forse quello più semplicemente è un po' di conformismo, più che la paura di non fare carriere. Io devo dire che accolgo il suggerimento saggio del dottor Giannini e quindi diciamo che è conformismo. Diciamo che è conformismo, senta però appunto diceva Laura. Però io vorrei arrivare a liberare tutto questo paese da questo conformismo, avanti diciamo così. Proviamoci già qui, allora nel weekend è già iniziata praticamente la campagna elettorale per il primario, non che prima non fosse iniziata, però ci sono stati gli appuntamenti chiave che caratterizzeranno il dibattito di qui al 30 di aprile. Volevo chiederle questo, evidentemente le intimidazioni politiche delle quali parla si riferiscono soprattutto all'attuale classe dirigente che ha in mano il partito, quindi i renziani. Che mi dice del Renzi dell'ingotto? Come lo giudica da punto di vista dell'avversario, del competitor per la corsa alla leadership del PD, l'ha trovato diverso, l'ha trovato a centi nuovi, un atteggiamento più inclusivo, abbiamo detto e scritto su diversi giornali che per la prima volta ha usato più spesso il pronome noi di quanto non avesse usato il pronome io, insomma aveva un atteggiamento più dialogante, vero? Non l'ho visto, non ho avuto occasione di vederlo perché ero in giro, ho letto un po' di agenzie, mi pare che mi poteva andare peggio, lui poteva avere un impatto maggiore sul paese, non mi pare che l'ingotto abbia avuto alcun impatto. Non è stata una svolta dal punto di vista sia dei contenuti sia della strategia? Sì, è un po' come l'utilizzo dei capilista da parte di Renzi, lui ha utilizzato la convention come utilizzo dei capilista, ha compattato il modo da tenerli tutti con le mani sul tavolo, tutti quelli che dovrebbero sostenerlo per essere sicuro del loro sostegno, dopodiché è una pratica vecchia, ricorda la famosa riunione di De Luca con tutti gli amministratori, mi raccomando dobbiamo votare tutti, dobbiamo votare tutti sì, hanno fatto una bella riunione in cui hanno detto dobbiamo votare tutti per Renzi, poi dobbiamo vedere se come per il referendum andrà a finire così o diversamente. Senta, ma sbaglio o lui si riferisce a lei quando, a proposito di quelli che ora vogliono riscoprire l'ulivo, ha detto ma in realtà Emiliano è la xylella, non è l'ulivo, era riferito a lei questo giudizio, xylella sappiamo bene che cos'è, siamo a beneficio dai nostri ascoltatori, è un morbo dell'ulivo che sta distruggendo le piantagioni. È un morbo inguaribile che sta distruggendo piante secolari che per noi sono più che semplici alberi, quindi se qualcuno utilizza con la solita superficialità la xylella per fare delle battute è ovvio che il dolore che i nostri agricoltori, devo dire tutti i pugliesi e tutte le persone che amano quest'albero provano, è talmente forte che l'idea di fare un paragone tra coloro che hanno impiombato Prodi per la Presidenza della Repubblica e la malattia, sinceramente mi sembra una cosa fuori luogo, però di cose fuori luogo ne sono successe tante in questi mille giorni, quindi mi sono limitato a far presente che la Regione Puglia sta combattendo contro la xylella finalmente, da sola, senza commissariamenti governativi, stiamo facendo centinaia di migliaia di monitoraggi, stiamo eseguendo le direttive dell'Unione Europea che sta molto apprezzando la nostra attività e mi auguro che nessuno, come fu durante il referendum delle trivelle dove mi tirarono fuori che la Puglia aveva l'acqua del mare non pulita e che io mi preoccupavo delle trivelle, erano bugie quelle di allora, non vorrei che qualcuno adesso adoperasse questo argomento. Ma in modo per dire forse che lei col PD centra poco, la cultura politica del Partito Democratico non è così vicina al suo modo di essere. Io centro poco con questa maggioranza che sinceramente ha il culto del capo che è una cosa estranea al centro-sinistra, io ricordo di aver partecipato ai funerali di Enrico Berlinguer qui a Roma tanti anni fa, era un leader potentissimo ma non c'era il culto della personalità di Berlinguer e Berlinguer si sarebbe sicuramente sottratto a questa pratica antipatica e impolitica. La stessa cosa per Aldomoro, io vivevo nella città dove viveva Aldomoro, dove aveva insegnato assieme ovviamente a Roma e Aldomoro era un leader incredibile ma non era un capo e non si faceva gestire da nessuno come se fosse una yatollah o un leader carismatico senza contenuti. Io penso che il Partito Democratico che raccoglie queste anime, la Puglia è anche la terra di Di Vittorio, Di Vittorio era un uomo che faceva trevare il terreno sotto i suoi piedi ma era un uomo che mai avrebbe consentito a nessuno di chiudere una discussione prima ancora di cominciarla, era un uomo che credeva che un partito fosse un intellettuale collettivo che serviva a risolvere problemi degli altri, non quelli del capo o quelli degli amici del capo. Comunque adesso si diceva siamo in campagna per le primarie ed è evidente che ci sono molti motivi di contrasto però tanti ritengono anche che lei in queste settimane, in quest'ultimo mese abbia lanciato dei segnali contraddittori. Per esempio torniamo a quella famosa assemblea all'hotel Parco dei Principi, lei c'è una domanda di Federico da Roma, ha fatto un intervento in quell'occasione dicendo Renzi tolga anche a me ogni alibi per la scissione, è andato via dal palco andando a dare il 5 a Renzi e oggi diventa il suo peggior nemico, perché questi due migliano? Trovo veramente un'interpretazione pazzesca dei fatti, noi avevamo tre mozioni diverse, Speranza Rossi Emiliano, io ovviamente avevo una mozione completamente diversa da quella di Enrico Rossi che addirittura aveva intitolato la sua mozione Democrazia Socialista se non mi ricordo male e non avevo nulla a che fare con la sinistra Dem che era l'area di Speranza e avevamo in comune soprattutto il fatto che non ci stavano dando il tempo di fare il congresso, noi stiamo facendo un congresso con Rita abbreviato dove io non riuscirò neanche a girare le province perché la paura di Renzi di perdere questo congresso è talmente forte che ci ha tolto anche il tempo di fare la campagna elettorale e in quel frangente è chiaro che di fronte a una negazione così evidente dei diritti di partecipazione politica nel partito avevamo anche ipotizzato di lanciare questa ipotesi della scissione come un estremo ultimatum ma nessuno dei tre ha mai fatto poi un processo politico di costruzione di un soggetto politico e di una piattaforma politica. Cioè lei non ci credeva tanto a questa ipotesi della scissione? Nel senso, d'altra parte mi ricordo perfettamente che nel mio discorso del Teatro Vittoria era chiarissimo che io avevo moltissimi dubbi teorici sulla scissione anche perché avevano dovuto fare una scissione che poi continuava a sostenere lo stesso governo rimanendo insieme in molte amministrazioni regionali. Però è vero che ci sono stati due Emiliano, l'Emiliano del Teatro Vittoria e l'Emiliano del Parco dei Principi. A distanza di pochissimi giorni. No, da un giorno all'altro, sabato e domenica. Tra l'altro oggi c'è un senatore di Verdiniani che dice beh Emiliano ha la faccia, sì la dice in maniera un po' più colorita, ha la faccia come il fondo schiena. Sicuramente me la dirà nell'intimo di qualche nostro incontro solitario e vediamo se la ripete questa frase. Però diciamo un po' di confusione lì c'è stata. A che gioco gioca Emiliano? Questa era la domanda che molti si sono fatti. Molto semplicemente. Quando siamo arrivati sul punto di dover prendere una decisione ognuno poi ha deciso secondo il suo punto di vista. Però gli altri sono rimasti sorpresi. Ma io con gli altri non avevo nulla in comune dal punto di vista politico, non avevamo mai dato vita ad una mozione comune, avevamo preso una posizione comune di fronte al fatto che non ci davano il tempo di fare il congresso. Non si fa una scissione sulla base semplicemente del fatto che siccome si è arrabbiati si strappa tutto e si va via. Adesso rimanere nel partito peraltro è stata secondo me una dimostrazione di stabilità del carattere e delle opinioni. Perché è chi va via quello che cambia, chi rimane si incarica. Lei citando Che Guevara mi pare chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Ma questo peraltro… Che Guevara è il suo modello diciamo. Diciamo che Che Guevara è stato per milioni di italiani e sicuramente anche per me un mito della mia gioventù e siccome penso che quel mito di cambiare il mondo e restituire la libertà le persone valga una vita, è così bello che valga una vita, continuo ad avere nei confronti di questa persona… È il modello cubano, Renzi dirà che lei porta avanti il modello cubano e che quindi è inattuale per affrontare la stazione delle riforme che viene di fronte. Questa politica che si fa negli uffici degli spin doctor della comunicazione, scherza su tutto, fa melasse di tutto, addirittura mi ha tirato dentro una storia di vaccini senza né capo né coda. Anche di questo dobbiamo parlare, però rimaniamo un momento sul campo. Serve a evitare che voi parliate di politica in modo sensato, serve a evitare a me di presentare la mia piattaforma programmatica, si parla sempre di altro in modo tale che gli italiani il giorno dopo si ritrovino sempre con le stesse leadership, con le stesse connessioni con le medesime lobby economiche, banche, petrolieri, finanzieri eccetera eccetera, nulla cambia, tutto prosegue e la politica non cambia la vita delle persone ma si limita a rincorrere potenti e persone che hanno un ruolo, trascurando quelli che non contano niente, Renzi fa questo di mestiere, secondo me si, e quelli che non contano niente, il PD è il partito dei petrolieri e dei banchieri, noi perdiamo consensi, perché continua a dire? Non è che perdiamo consensi perché io lo dico, perdiamo consensi perché lui lo ha fatto diventare così, lui dice ovviamente delle cose che non sono vere perché lui si è preoccupato più delle banche che delle persone senza lavoro, si è preoccupato più delle grandi imprese che delle piccole e medie che avrebbero avuto bisogno di lui, dello Stato, della sicurezza per esempio, è un uomo che non parla mai di lotta alla mafia e non parla mai della sicurezza nel nostro territorio, al nord stanno costruendo condomini con muri di cinta di 3 metri e al sud ogni imprenditore si deve costruire la sicurezza da sé e lo Stato non c'è e di questo ovviamente non si parla perché il mondo finisce a Roma nella bolla mediatica del nulla rilucente che a Lingotto si è esibito in maniera assolutamente icastica avrebbero detto, ha detto che non l'ha visto a Lingotto, ma voglio tornare sul punto che stavamo toccando insieme, dicevamo Speranza-Rossi, quindi questo rapporto così complicato nelle ultime settimane, a Speranza e Rossi lei però vuole tornare perché lei dice nel futuro se sarò io il segretario del Partito Democratico voglio riportare dentro quelli che sono andati via. Io vorrei riportare ad avere fiducia nelle istituzioni, i milioni di italiani che ci siamo persi in questi anni, gli italiani sono convinti che la politica non serve a nulla, che i partiti non servono a nulla, che è meglio inseguire un signore come Salvini o sperare che il Movimento 5 Stelle prima o poi diventi una formazione politica vera e propria, molti dei nostri elettori, quelli del Partito Democratico votano per il Movimento 5 Stelle quasi per sottolineare il loro dolore nei nostri confronti, mi piacerebbe per esempio rivedere completamente le normative sul lavoro che sono state approvate nei mille giorni nel governo del mio partito incredibilmente, senza avvisarmi hanno cambiato l'articolo 18, senza avvisarmi hanno varato i voucher che consentono alle persone di dare… Quelli c'erano già, no? Sono stati allargati e soprattutto non si è rimediato all'utilizzo abusivo che si è fatto di queste norme, io ho firmato il referendum della CGL, andrò a votare sì a questi referendum, mi dispiace che non sia passato il referendum sul Jobs Act che per altro è stato finanziato negli sgravi fiscali con i soldi del mezzogiorno, quindi una truffa sulla truffa e quando i sgravi sono finiti l'effetto positivo del Jobs Act è finito immediatamente e quindi vuol dire che quel sistema non funziona. Mi piacerebbe anche che qualcuno si preoccupasse di come stimolare l'innovazione aziendale, la cultura di impresa. In Puglia noi siamo record men nazionali della capacità di impiegare i fondi strutturali europei, le nostre imprese hanno già impegnato i fondi strutturali italiani per il 52%, cioè solo quelle della Puglia hanno impegnato più della metà dei fondi strutturali europei previsti per tutta l'Italia. L'efficienza della pubblica amministrazione della regione Puglia in questa materia potrebbe essere quella dei ministeri che invece purtroppo continuano a costare molto danaro e ci costringono ad una pressione fiscale altissima. Comunque lei adesso sta parlando della buona politica e delle buone pratiche, io voglio tornare al momento... Io so che giornalisticamente non rende... No, voglio capire come tu pensa di realizzare questi progetti, perché poi per governare... Devo provare a spiegare che nulla lucente, che è ovviamente il renzismo, ha delle alternative dentro il Partito Democratico. Noi dentro il Partito Democratico, per esempio, vorremmo costruire gli Stati Uniti d'Europa. È possibile sognare una cosa del genere? È possibile sognare di avere una legislazione antimafia europea, una procura antimafia europea che possa consentirci la repressione dei reati finanziari di mafia e di terrorismo sul modello italiano? Renzi a cambiare l'Europa ci ha provato, magari non ci è riuscito, però una serie di cambiamenti a come ha funzionato l'Europa fino a lui ha cercato di portarli dentro. Che ci abbia provato a fare delle cose è indubbio che ci sia riuscito, forse è riuscito a completare un percorso che però onestamente veniva da lontano sui diritti civili, ha fatto forse una buona legge sul caporalato, ma anche quella forse andrebbe aggiustata. Per il resto non mi viene in mente nulla che sia stato completato, mille giorni di governo sono un tempo lungo e sono un tempo soprattutto decisivo nella fase in cui lui sulla base delle sole primarie, perché lui non è mai stato eletto al Parlamento, sulla base delle primarie è diventato Presidente del Consiglio. Adesso gli italiani hanno un'occasione inversa, come lo hanno fatto diventare Presidente del Consiglio con le primarie possono chiudere questa parentesi secondo me non positiva della storia d'Italia, andando a votare le primarie. Bastano due euro a persona per cambiare la politica italiana. La domanda che faceva Laura secondo me è stata un pochino anche bypassata da Renzi all'ingotto, cioè tutti i ragionamenti che si stanno facendo ormai sembrano partire da una premessa che non c'è più. La premessa è che siamo ancora in un regime maggioritario, come se il referendum non fosse stato bocciato e l'italicum non fosse stato archiviato in via definitiva anche attraverso la sentenza della Corte Costituzionale. Cioè qui quello che nessuno sta ancora dicendo, io devo dire da parte sia dei candidati alle primarie del PD, sia sugli altri fronti politici, il Movimento 5 Stelle, il centro-destra eccetera, è come ci rapportiamo alla nuova fase che è evidentemente completamente diversa, cioè siamo in un regime proporzionale. Ora vedremo se si riuscirà a fare una correzione alla legge elettorale, ma anche se ci sarà si ispirerà più o meno alle due sentenze della consulta che hanno lasciato un meccanismo più o meno proporzionale. Quindi il tema è, non c'è più la vocazione maggioritaria di un partito che possa immaginare di far da solo, neanche il PD e quindi anche l'idea di riciclare il lingotto veltroniano non sta in piedi. Bisogna fare delle alleanze, bisogna mettersi d'accordo con qualcuno e immaginare o prima o dopo il voto con chi si vuole governare. Renzi non ce l'ha ancora spiegato, lei con chi vuole governare? Perché da solo il PD non ce la fa, diceva Laura si vuole riprendere quel pezzo di PD che se ne è andato e fare un accordo con Pisapia, oppure come lei recentemente ha detto, ne abbiamo parlato anche in un'altra trasmissione televisiva, lei è pronto anche a fare, a stendere un ponte con i Cinque Stelle, si può governare con i Cinque Stelle? Allora proviamo a ricostruire la questione della legge elettorale, innanzitutto non c'è scritto da nessuna parte che noi non si possa fare una legge elettorale decente, costituzionale e che consenta alla fine di governare questo Paese. Le condizioni politiche in realtà potrebbero non mancare se in questa fase come io avevo chiesto, anziché correre subito al congresso col rito abbreviato, noi avessimo prima fatto la legge elettorale, è stato oggetto di una risposta specifica che mi è stata data credo in assemblea, in cui si diceva che era stupida la mia pretesa di fare prima la legge elettorale e poi il congresso, lei conferma che se noi facciamo un congresso senza sapere qual è la legge elettorale con la quale andremo, nel congresso di che alleanze parliamo, di quale legge elettorale, però purtroppo la confusione mentale nella quale nulla lucente è caduta, arriva fino al punto da non capire questi nessi che lei correttamente ha posto. Io sono dell'idea che vada come minimo fatta, visto che quella della legge elettorale dei sindaci è andata male, proviamo con la legge elettorale dei presidenti delle regioni, proviamo a fare e a costruire un premio di maggioranza di coalizione che almeno consenta, ovvero la coalizione raggiunge il 40% di avere con certezza una maggioranza. Qual è la coalizione che lei ha in testa? La coalizione è ovviamente di stile ulivista e io non ero in Parlamento a impiombare, come ho detto prima, Prodi, lo posso dire anche perché governo in Puglia con una coalizione di stampa ulivista che va dal cattolicesimo democratico, quindi addirittura dall'Unione di Centro fino a sinistra italiana, quindi in in coalizione, diciamo così, coloro che si ispirano a Pisapia. Penso che questo sia un metodo di governo valido che in questo Paese ha dato risultati positivi, certamente nelle amministrazioni dobbiamo ovviamente essere chiari nelle alleanze che dobbiamo fare. Poi nei confronti del Movimento 5 Stelle io non ho prevenzione, vi ricordo che appena è eletto Presidente per rispettare lo statuto che voleva la parità di genere e non avendo purtroppo il centro-sinistra eletto neanche una donna, avendo l'obbligo di scegliere gli assessori nel novero degli eletti, io ho nominato e ho notificato i decreti di nomina a tre assessore donna del Movimento 5 Stelle per agricoltura, ambiente e personale, quindi deleghe importantissime e sarei stato felice anche persino di accettare l'idea non di una presenza delle assessore in maniera politica, cioè con il supporto politico del loro gruppo, ma anche semplicemente come servizio tecnico alla giunta. Quindi da Premier le darebbe tre ministeri ai 5 Stelle? Io voglio solo dire che il Movimento 5 Stelle e in particolare i loro elettori, soprattutto nella componente che è scappata via dal PD, che sono tantissimi gli elettori del PD che sono andati ieri a Firenze, ero circondato da persone che mi hanno detto guarda che se tu diventi segretario noi torniamo a votare il PD, questo popolo è un popolo che in qualche modo mi assomiglia, è vero, sono cittadinanza attiva, hanno cominciato a far politica impegnandosi ma mantenendo il loro lavoro senza fare della politica una professione, come è capitato a me, io sto combattendo perché mi vogliono a tutti i costi far licenziare dal mio lavoro, perché mi vogliono far diventare un professionista della politica, ma io non sto mettendo soldi da parte, io vorrei alla fine tornare, se non proprio al lavoro di magistrato, potrebbero anche cambiarla questa norma e mandarmi a lavorare da qualche altra parte, ma il Movimento 5 Stelle considera la politica non un mestiere e soprattutto loro hanno una visione basata sulla trasparenza, sull'onestà, sull'abbassamento dei costi. Mi hanno preso in giro perché ho citato Cuba, dove sostanzialmente è previsto un meccanismo nel quale ai politici non viene pagato uno stipendio vero e proprio, ma sì, risarciscono le entrate che vengono meno a causa del mandato. Ma non è populismo questo? No, no, perché… Molti suoi avversari, Emiliano è un populista e quindi non ci può stare. Ma non è vero, perché, lo ripeto ancora una volta, se per esempio io sono avvocato e posso continuare a fare l'avvocato facendo il sindaco o il consigliere comunale, perché mi devono pagare anche uno stipendio? Non c'è nessuna ragione. Se alla fine però di un mandato dove ho dovuto chiudere il mio studio da avvocato, questo voglio dire al Movimento 5 Stelle, e non sono in grado di riaprirlo perché ormai è troppo tardi, la mia vita l'ho dedicata ad altro, nessuno mi deve consentire di invecchiare serenamente dopo aver dedicato alla politica 15 anni, quindi i famosi vitalizi non sono solo dei privilegi, in qualche caso sono necessari, sono la bacchelli dei politici. Allora bisogna ragionare su queste cose, tenuto conto che in politica, qui hanno ragione quelli del Movimento 5 Stelle, non ci si può arricchire, uno non può fare politica per far arricchire se stesso, amici e parenti. Però se gli elettori fossero pure disposti a votarla o se alcuni ex del PD tornassero a scegliere il suo partito, invece il Movimento dal punto di vista delle persone che lo rappresentano in Parlamento e nelle istituzioni è pronto a questo passo? Io non so se sia pronto, io non ho prevenzioni, io vedo che in Parlamento c'è un odio tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, un odio antropologico che è un po' quello che ha provocato anche la nostra scissione, la categoria amico-nemico prende il luogo della categoria che dovrebbe essere anche utilizzata verso le opposizioni, nelle quali comunque la squadra è la stessa, l'Italia, il mio slogan del congresso è l'Italia e il nostro partito, ma l'Italia è anche il nostro Parlamento, non è detto che due forze politiche, l'una l'opposizione dell'altra, debbano per forza guardarsi in Cagnesco come se fossero nemici di una partita di calcio fiorentino, allora nei confronti del Movimento 5 Stelle che spesso sbaglia termini aggressivo e violento, non c'è nessuna prevenzione, come probabilmente, ecco io ho delle prevenzioni ideologiche nell'immaginare un rapporto con la destra, ma non per questioni di rispetto, per questioni, come facciamo a tornare indietro sull'articolo 18 in un governo che abbia dentro la destra, come faccio a evitare polemiche sui migranti? Alfano è destra? Per lei? Alfano lo deve decidere innanzitutto lui, perché prima lo decide lui, poi eventualmente do un commento io. Lei un'idea se la sarà fatta? No, io non credo. Si può continuare a governare con Alfano nel suo pittà? No, io penso che con Alfano non aveva senso prima e non ha senso adesso, però il punto chiave è che Alfano stesso, ma non si possono fare i governi a tutti i costi, perché poi le conseguenze sono che quando si è tentato di fare la riforma del codice penale, che era importantissima, quando Orlando ha provato a fare la riforma del codice penale, rimanendo ministro della giustizia, non ci è riuscito, perché il nuovo centrodestra, perché si chiama ancora così la formazione politica, non era d'accordo su una serie di asset che avrebbero potuto aumentare la capacità repressiva di alcuni reati. E lì c'è una concezione diversa, che non può stare nella stessa giunta, nella stessa amministrazione, nello stesso governo. Quindi il Movimento 5 Stelle non va demonizzato, l'ho fatto sempre, lo ripeto, e soprattutto va aperto il campo della ricostruzione del centro-sinistra, che è il nostro principale compito. La mia mozione è l'unica che può ricostruire il centro-sinistra. Renzi non ci riuscirà mai, Orlando dice la stessa cosa, perché Orlando no? Perché Orlando è il ministro del governo Renzi, a sinistra non ci cascano su sta roba, lo sanno perfettamente che Orlando rappresenta un pentimento tardivo rispetto ad una condivisione piena di tutti gli errori compiuti nei mille giorni, che adesso non possono essere ribaltati. Certo, il pentimento va sempre bene, anche se è tardivo, però non puoi passare dall'aver condiviso tutto a diventare l'alternativa. L'unica alternativa al renzismo in questo momento è la mia mozione, la nostra candidatura, perché voglio parlare al plurale, che tenta davvero di cambiare la storia del centro-sinistra e del paese. Anche nel rapporto nord-sud, se mi permettete, perché l'idea che il mezzogiorno efficiente, la Puglia è il mezzogiorno sufficiente, non per merito mio, ma per merito dei pugliesi e anche di chi mi ha preceduto, che il mezzogiorno efficiente ricominci a dialogare in termini di dignità con il resto d'Italia e dia il suo contributo all'uscita della crisi economica, è una cosa che può essere realizzata. Persino il fatto che io appartenga per mestiere ad una categoria piuttosto conflittuale con la politica, offre attraverso la mia mozione una riconciliazione generale, ovviamente su presupposti costituzionalmente severi e rigidi, come la legalità, la repressione del crimine, il welfare e l'antimafia sociale, la lezione di Don Luigi Ciotti che noi abbiamo in Puglia realizzato in modo adeguato, comprendendo che la lotta alla mafia non si fa solo arrestando le persone, ma ricostruendo le ragioni di una comunità, di una coesione. Tutta questa roba è patrimonio del centro-sinistra che all'ingotto era volato via come dai cammini Lorenzi, il segretario del Partito Democratico deve essere anche il candidato premier, secondo lei? Ma guardi, io penso che il segretario del partito, che è un lavoraccio, io l'ho fatto in Puglia per due volte, devi tenere insieme una comunità e come dicono i napoletani devi intostare l'acqua con le mani perché non hai nessun potere. Noi stiamo parlando del congresso del PD, c'è chi vincerà e c'è chi perderà, ma non è che chi vince come il sindaco in un comune comanda su quelli che perdono, un partito è una comunità, si capisce che quelli che vincono faranno più o meno, daranno un indirizzo politico, quelli che perdono continueranno a fare l'opposizione, ma una comunità come questa può essere guidata da uno che ha un'altra cosa da fare, è ugualmente difficile come addirittura il premier, è possibile fare le due cose o va a finire come succede? Quindi bisogna cambiare lo statuto secondo me, lei cambierebbe lo statuto? No, 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 perché lo statuto prevede che le due cariche coincidano, se sei il segretario sei anche il candidato premier. Non è esattamente così, il segretario normalmente, dice lo statuto, coincide con la figura del premier, ma per le ragioni che lei ha detto prima, il cambio del sistema elettorale, ma anche per una scelta politica del segretario, se mai il segretario, se io fossi il segretario del partito e le altre forze politiche mi dicessero che è necessario il mio impegno come premier, mi dimetterei da segretario del partito. Senta, abbiamo probabilmente quasi finito, però io ho tre domande proprio a raffica sulla giustizia da ex magistrato. Allora facciamo, giustizia ed eguaglianza delle persone, parliamo di questi due argomenti. Allora, qui c'è una bella domanda di dire, Natale, un avvocato dice che De Magistro si è dimesso da magistrato quando è entrato in politica, lei cosa aspetta? Questa è la prima, io le faccio tutte e tre come fa Renzi nelle conferenze stampa, la seconda, dopo domani si vota la mozione su Lotti, mi dica qualche cosa su Lotti e la terza, hanno discusso al lingotto il nulla, com'è che l'ha chiamato? Il nulla l'avvicente. È intervenuto Graziano e ha detto, ma forse sarà il caso di cominciare a rivedere l'istituto dell'avviso di garanzia e renderlo, come dire, segreto, non più, ecco, vada, rapidissimi, non c'è nessuna ragione di nessun tipo per cui un uomo che ha diritto di candidarsi si debba dimettere dal suo posto di lavoro per esercitare il mandato politico, la Costituzione addirittura vieta che qualcuno possa essere licenziato per questa ragione e trovo pazzesco che in questo paese se qualcuno si sia inventato che un magistrato sia incompatibile con la politica, diciamo è la teoria Davigo, Davigo è traumatizzato dalla politica, la considera una specie di suburra nella quale chiunque rischia di inquinarsi e quindi per le ragioni opposte sostiene che un magistrato non dovrebbe mai fare politica e meno che mai dovrebbe tornare in magistratura. Io onestamente non ho tutte queste sicurezze che ha Davigo, posso però dire che se ci fosse una legge, ma non mi rimetto neanche morto perché non c'è nessuna ragione per la quale io mi devo consegnare al ricatto di chi mi vuole trasformare in un professionista della politica non avendo la possibilità di mandarle al diavolo quando voglio di tornare al mio lavoro, lei sa di che parlo, giusto? Nel senso che a un certo punto ognuno di noi ha un lavoro, questo lavoro non può essere tolto a una persona, non c'è nessuna incompatibilità e vorrei tanto che gli italiani se ne convincessero perché si sono invece convinti che uno si deve dimettere, molto spesso lo dico chiaramente, i magistrati si sono dovuti dimettere per entrare in politica perché erano in una fase disciplinare che veniva interrotta dalle dimissioni, mi spiego? Adesso senza entrare nel merito, a me non hanno mai fatto contestazioni se non dopo 13 anni dal punto di vista disciplinare, non c'è mai stata ragione per interrompere alcunché, però se il Parlamento approvasse una norma che dice finito il mandato, un magistrato anziché tornare alle funzioni giurisdizionali va a fare il direttore generale di un ministero, probabilmente sceglierei di andare a fare il direttore generale del ministero. Ma qualunque si deve dimettere? Ognuno deve decidere con la propria coscienza, se ho capito bene il suo Presidente del Consiglio gli ha detto che non è necessario che si dimetta, quindi dovrebbe valutare se le sue dimissioni aiutano o indeboriscono il Governo. Lei che farebbe? Io mi sarei dimesso ovviamente, nel senso che come probabilmente mi sarei dimesso al posto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o del Capo, l'Amministratore Delegato della Consip, lì ci sono delle situazioni in cui ho aumentito l'uno o ho aumentito l'altro, bisogna liberare il Governo, i Carabinieri e la più grande centrale d'acquisti del Paese dal dubbio che ci siano delle persone che stiano giocando una partita nelle quali ho aumentito l'uno o ho aumentito l'altro. Siccome gli individui non sono così importanti come i Governi, da che mondo è mondo, in quei casi tutti fanno un passo indietro e si salvano le istituzioni. Qui il renzismo, il nulla lucente, ha fatto venire meno persino questa abitudine sana che c'era in passato. Senta, ma visto che lei è così orgoglioso anche di essere un magistrato... Beh, anche Crozza lo dice sempre. Ma perché, in merito al caso Consip, gli SMS di Lotti lei l'ha fatti vedere a un giornale e non è andato invece da un magistrato a raccontare che aveva ricevuto i messaggi? Allora, innanzitutto i messaggi dal mio punto di vista sono penalmente irrilevanti quelli che io avevo, però è una mia idea, poi può darsi che i magistrati la vedono in un altro modo. Io non avevo nessun elemento per stabilire che fossero rilevanti. Dopodiché, se un giornalista autorevole come voi mi avesse chiesto conto della mia presenza addirittura a casa di uno di questi presunti faccendieri, perché lui nelle sue conversazioni mi aveva citato come invitato a casa sua, nel momento in cui, ovviamente ho detto che non sono mai andato a casa di questo signore, e quando mi hanno chiesto ma lei conosceva questa persona, dico certo che la conoscevo, e come la conoscevo? Ho detto perché mi è stata accreditata da Lotti, dopodiché, ma lei è in grado di provare che gli è stata accreditata da Lotti? Ho risposto a un giornalista che mi pare sotto l'aspetto del diritto all'informazione importante tanto quanto magistrato e forse di più, dal punto di vista della struttura della Costituzione sicuramente, perché voi siete nella parte dell'articolo 21, nella parte veramente importante, la giustizia sta molto più in là ed è un po' meno importante della libertà di stampa, questo anche bisognerebbe spiegarlo al congresso del diritto, ma lei deve testimoniare ancora su quella? Sì, però non mi hanno più convocato, evidentemente hanno rigenuto in questa fase di evitare, vista tutto sommato la relativa importanza della mia testimonianza, di evitare di farlo in questo momento particolare. Senta, e la proposta Graziano, l'intervento sull'avviso di garanzia, l'idea di garantismo che sta venendo in campo? È un assoluto delirio, perché partono dal presupposto che l'indagato colpevole abbia interesse a non essere descritto sui giornali, però ci sono anche gli indagati innocenti che dai giornali potrebbero ricevere non solo ulteriori accuse, ma anche un motivo per potersi difendere, cioè se io vengo accusato ingiustamente e ho bisogno di parlare con un giornalista, poi che facciamo? Il giornalista può parlare solo degli avvisi di garanzia quando ha il permesso del soggetto che li ha ricevuti? Entriamo nel comico. Io penso che ci siano delle norme deontologiche che consentono ai giornalisti di parlare di qualunque cosa, d'altra parte questo giornale ha fatto delle battaglie epiche, che io ricordo perfettamente, per difendere il diritto dei giornalisti a parlare delle indagini preliminari, che fanno parte della vita istituzionale e se una persona non ha fatto nulla è giusto che possa parlare della propria posizione, come d'altra parte tenere segreto un avviso di garanzia mi pare veramente un privilegio che verrebbe ascritto esclusivamente a quelle personalità pubbliche che sarebbero le uniche ad avere un vantaggio vero da questo punto di vista e secondo me nega non solo il diritto all'informazione, ma anche il diritto degli imputati o degli indagati che invece avrebbero voglia di essere spiegati attraverso il sistema della comunicazione. Insomma io lascerei il mondo come sta. Va bene. Chi vince le primarie? Le primarie le vinciamo io e tutte le persone libere che, ripeto, potranno andare a votare le primarie del 30 aprile, anche se non sono iscritte al Partito Democratico, purché abbiano voglia di votarlo e se lo voterebbero più volentieri se dovessi essere io il segretario. In quel caso se molti italiani dovessero andare a votare... Lei ha fatto l'appello anche al di là degli elettori del PD, venite tutti quelli che ce l'hanno con Renzi e vengano a votare per me. Non ho detto così, ho detto chiunque voterebbe per il PD, se io ne fossi il segretario, può legittimamente venire a votare. E questo è il sistema che ha portato Renzi a vincere le primarie l'altra volta, io vorrei le stesse condizioni che ha avuto Renzi l'altra volta. Tutti possono venire a votare e cambiare la storia del PD e cambiare la storia d'Italia, perché quello che è successo in questi ultimi mille giorni è davvero un danno grave per il nostro Paese e io mi auguro che il PD che ha provocato questo problema lo risolva attraverso le primarie. Grazie a Michele Emiliano, grazie a tutti voi e buon pomeriggio ancora. Grazie a tutti voi e buon pomeriggio ancora. Grazie a tutti voi e buon pomeriggio ancora.